Regione Abruzzo presenta due importanti misure nell'ambito del Fondo Sociale Europeo 2021-2027 per complessivi 8 milioni di euro. Un bando per la formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori di imprese in situazione di crisi aziendale, destinando risorse per 2 milioni di euro. Il finanziamento comprende percorsi formativi personalizzati in base alle esigenze dell'azienda e mira a supportare i lavoratori che rischiano di essere duramente colpiti dalle transizioni. Inoltre 6 milioni di euro da destinare a percorsi formativi personalizzati per agevolare l'inclusione lavorativa per dipendenti con contratto a tempo determinato o indeterminato, mirati all'acquisizione o all'aggiornamento delle competenze. La candidatura può essere inviata a partire dal 5 agosto 2024 e fino al 30 maggio 2025 tramite piattaforma telematica regionale. La novità importante è che noi finanzieremo insieme all'ATS, ovvero all'Associazione Temporanea di Impresa, che sarà composta da un organismo di formazione, ci saranno all'interno anche le aziende. Quindi le aziende parteciperanno direttamente in questo percorso e siamo sicuri della grande ricaduta che avremo sul territorio. Un bando che avrà una durata nel tempo molto lunga perché vogliamo non fare una cosa breve ma dal lunedì 5 agosto fino al 2025 maggio l'avviso sarà aperto proprio per dare la maggior parte della platea possibile di accedere su questa linea di fondi che sono 8 milioni e mezzo sulla formazione. Parliamo di aziende a 360 gradi, primo avviso aziende in stato di crisi aziendale, l'altra invece aziende che vogliono aumentare la capacità di skill dei propri dipendenti a tempo determinato e indeterminato. Un'altra novità è quella della certificazione delle competenze che non deve fare tutto il percorso, diciamo 300 ore, ma le UDA che sono il corso standard minimo che ci viene richiesto poi dalle aziende. Quindi ci saranno degli slot modulari a seconda proprio dell'esigenza capillare. Ecco perché l'importanza della partecipazione dell'azienda coinvolta all'interno del partenariato. Grazie a tutti.